Cosa cerchiamo nelle strade che percorriamo, nei voti di chi amiamo, nei tramonti che osserviamo senza stancarcene mai? La bellezza è la nostra meta finale, la nostra vera attrazione. La cerchiamo in ogni dettaglio, ma solo alcuni sanno trovarla nei luoghi più inaspettati. E solo pochi sanno trasformare la materia nella sua forma più fine, pura e indimenticabile. Tra qui pochi ci siamo noi. Seabornovation, born from beauty.